Io non so se questa è stata la partita perfetta da parte del Follonica, rimane una prestazione straordinaria, una partita giocata con carattere, con grinta, con determinazione, con qualità e gara 1 è in cassaforte. Sì, noi sappiamo che bisogna vincere tre per arrivare in finale, abbiamo vinto una e basta, è finito lì, resettiamo quello che è di buono e tanto di buono abbiamo fatto stasera perché sabato c'è già un'altra partita ugualmente complicata, difficile in casa loro, i miei ragazzi sono stati straordinari, penso che hanno detto molto bene. Abbiamo sbagliato tanto, anche con la sfortuna, abbiamo preso un sacco di palle traverse, abbiamo sbagliato uno contro il portiere diverse volte, se la partita poi andava su un doppio vantaggio penso che sarebbe diversa. È sempre stata lì, anche per merito dell'avversario, lo sapevamo che aveva molta qualità, l'ha dimostrato, però penso che oggi siamo stati i giusti vincitori. Avevi detto in pre-partita che i ragazzi avevano voglia di giocare queste partite, partite straordinarie, sono play-off e ambiente straordinario, avevi chiesto il tifo, avevi chiesto la curva carica, insomma direi che da questo punto di vista non si può dire niente. Sì, un mercoledì sera vedere il palazzetto così come era oggi fa solo che piacere, sono contentissimo, anche per i ragazzi perché hanno bisogno e meritano questo supporto che stanno avendo. La gente si diverte, sa che chi veste questa maglia dà tutto quello che ha, perché il nostro obiettivo è arrivare in finale. Il primo era quello di arrivare qui, adesso... Un passo alla volta. Sì, sì, siamo riusciti ad arrivare in semifinale, che era, ripeti, l'obiettivo principale, adesso vogliamo arrivare in finale. Penso che abbiamo la qualità per farlo, bisogna lavorare ancora tanto perché bisogna vincere tre dei partiti e noi abbiamo solo vinto uno. Grazie e complimenti. Grazie. Grazie.